Avvocato Anna Carnielli, Presidente Propeller Club Venezia, oggi da UIR, che il convegno intercocchi al centro. Le sue impressioni? È stata un'opportunità di confronto, sicuramente utile e non scontata, perché sono emersi anche delle prospettive, anche inedite, in relazione anche alla situazione storica che stiamo vivendo. Quindi le domande e le esigenze sono state, degli operatori mi pare che siano state colte anche dal Ministro, perché ha richiesto a UIR un incontro. La prospettiva però di ragionamento deve essere quella di medio-lungo termine, questo l'abbiamo colto. E il fare sistema non è più un'opzione, ma è una necessità, alla quale almeno verbalmente si sono tutti dimostrati disponibili, ma mi sembra che ci sia un salto culturale da questo punto di vista rispetto al passato. Nel senso che questa esigenza adesso trova un'interpretazione concreta in contatti e in programmi coesi appunto di medio-lungo termine. Quindi siamo oltremodo lieti anche noi, non solo a Venezia come realtà, ma di cogliere questi segnali industria, operatività, logistica e porto come un tutt'uno per un bene comune, che è quello del paese.